ok allora intanto ciao ragazzi ciao a tutti sto facendo questo video perché questa sarà una settimana un po' speciale intanto vi saluto fatemi sapere come state come va tutto bene cosa pensate intanto degli ultimi video di chitarra facile detto questo siccome sto lavorando da alcune cose importanti siete qui nella mia taverna e sono qui proprio per dirvi che ci vedremo in questa taverna per tutti i giorni alle 18 e 30 in live perché faremo delle live perché appunto come stavo dicendo prima sto lavorando delle cose molto importanti che mi richiedono molto tempo e che vedrete ovviamente nei prossimi giorni nelle prossime settimane che mi richiedono molto tempo e quindi la live mi permette di risparmiare un po di tempo rispetto a quello che mi serve per fare tutta la pubblicazione sul blog sul sul canale youtube facebook eccetera delle varie lezioni giornaliere e quindi faremo comunque avremo un video al giorno sempre da lunedì al venerdì anche questa settimana però saranno tutti i video in live che è una cosa molto positiva anche per lo scambio di opinioni lo scambio di domande voi potrete fare delle domande ogni live sarà alle 18 e 30 e potrete fare avrà un argomento specifico ogni ogni live quindi vedrete comunque nel titolo l'argomento del giorno della lezione del giorno ovviamente saranno tutte lezioni come sempre dedicate a strimpellari comunque persone che non sono esperte quindi lezioni proprio basilari diciamo e andremo a vedere un po le difficoltà iniziali per quanto riguarda una persona che sta imparando a suonare la chitarra bene quindi ogni giorno alle 18 e 30 quindi ci vediamo anche stasera mi raccomando alle 18 e 30 per la prima lezione e poi ogni giorno da lunedì al venerdì quindi venerdì sarà l'ultimo giorno di queste live diciamo dove faremo appunto proprio delle lezioni mi tengo diciamo teniamoci un'ora di tempo per queste lezioni quindi ipoteticamente dalle 6 e mezza alle 7 e mezza di sera ok ci teniamo un'ora di tempo faremo queste lezioni che saranno live quindi potete anche interagire interessante questa cosa ci sarà l'argomento del giorno e poi se avete delle domande potrete fare in un'ultima sessione vediamo di rispondere alle domande che che arrivano e detto questo sto guardando le cose che mi ero scritto segnato di dirvi niente l'ultima cosa da dire mi raccomando ricordatevi che il 20 maggio c'è il raduno degli stream pellari che sarà una cosa molto molto veloce molto informale eccetera eccetera perché praticamente c'è il guitar show a padova siccome io comunque ci devo andare allora ho detto vabbè dato che io comunque sarò lì l'anno scorso avevo già incontrato qualcuno di voi allora cerchiamo di fare una cosa un po più organizzata ma sempre molto easy diciamo nel senso che ci troviamo scambiamo quattro chiacchiere e ci saranno anche delle cose in realtà importanti che comunque vedremo anche nelle live di questa settimana vedremo proprio le cose importanti che diciamo i bonus le cose che potremmo regalarvi se venite al raduno a padova quindi ci saranno delle sorprese anche per quanto riguarda il raduno mi raccomando il 20 maggio a padova allo Sheraton c'è il guitar show se andate su guitar show.it vedete tutte le cose io non ho nessuna collaborazione con guitar show ma è solo perché io ci sarei andato comunque e allora ho detto vabbè incontriamoci la se se per caso passate di là e scambiamo quattro chiacchiere magari ci beviamo uno spritz e saremo appunto nello stand di Janand comunque dopo vi do tutti i dettagli durante le live detto questo credo di aver detto tutto ripeto sto preparando sto preparando ho parlato troppo velocemente sto preparando delle cose interessanti e importanti che mi richiedono molto tempo di lavoro diciamo per pubblicarle e quindi ecco queste live servono un po anche per risparmiare un po di tempo perché mi richiede molto più tempo pubblicare i video delle lezioni dei vari maestri perché devo fare le trascrizioni e tutto quanto pubblicare eccetera eccetera quindi le live mi consentono di andare live spiegare quell'argomento per un tot di tempo e dopo chiuso quello la live è già disponibile per anche rivederla in registrato e quindi non devo fare molto altro diciamo non c'è la post produzione non c'è questo non c'è quell'altro ovviamente la qualità sarà un po meno buona quello delle live però l'importante è il contenuto ok quindi ci vediamo stasera 18 e 30 tutti qua che ci sarà la live con la prima lezione di oggi e non vi sbaglio l'argomento ma lo vedrete dal titolo della live ciao a tutti ciao ci vediamo stasera